shalom buonasera a tutti come di solito sono proprio contento di stare con voi anche se questa volta c'erano molto di meno ascoltatori spero che non è perché parliamo del moshiach che moshiach è qualche cosa come abbiamo studiato è l'anima dell'ebraismo ok ok allora questa sera ancora dedichiamo la lezione per tutti quelli che loro sono afflitti dalla corona virus poi oggi è l'anniversario della mancanza del mio papà rabbi joseph e allora dedico questa lezione il suo merito che tutti che loro miglioreranno la qualità della loro vita sarà anche per il suo merito che andrà ad un livello più alto in ghaneden poi rufuashlema per mi ha il figlio di miriam rufuashlema per eliao ben latifa e cominciamo adesso oggi come ho detto cominciamo a studiare il maimonidi il rabbam che lui è l'unico di halakha che vuol dire modus viventus lui parla di moshiach nelle legge dei re allora capitolo 11 allora comincia così chiama moshiach il re perché perché c'è una differenza fra il re fra il re è un governatore un re diventa re dall'incoronazione della gente un re viene accettato con volontà con stima con amore lo stesso sarà il melech ha moshiach il re moshiach non sarà uno che porterà difficoltà alla gente siccome abbiamo parlato che nell'epoca di moshiach toglierà la negatività la gente si renderanno conto della verità assoluta allora la gente avendo un maestro che ridarà la verità alla gente la conoscenza con amore a ogni singola la persona ebreo e non ebreo e allora lui sarà un vero re ok ha melech ha moshiach attid nel futuro quelli che dicono quando arriva moshiach non sanno quello che sanno non dicono e allora però aspettiamo e prepariamoci speriamoci miglioriamo la qualità della nostra vita che così magari arriviamo alla predisposizione che hashem ha premeditato prima della creazione del mondo quando arriviamo a questo livello abbiamo finito il nostro compito e speriamo che noi manca poco allora speriamo che ognuno con la sua minima miglioramento raggiungiamo questa misura allora nel futuro la mod si innalzerà ma che cosa vuol dire si innalzerà allora ho visto una concordanza la parola omed il verbo omed è dello stesso lettere di moed scivolare si sono scivolare si sono scivolati le mie gambe allora omed è proprio contrario del scivolare vuol dire uno che sta fermo con risoluzione con sicurezza questo vuol dire ammidà allora questo re moshiach accettato e voluto da tutta la gente nel futuro la mod si alzerà sarà fermo con tanta forza e ridarà malchut david il regno di david il regno di david l'yoshno come era nei tempi originari quando davide è diventato re gli ebrei veramente stavano benissimo sicuri ecco perciò perciò Shlomo Amalek è stato accettato da tutti i re del mondo portavano regali come proprio viene spiegato ampiamente nei libri di di Melachim di Re quanti pranzi lui faceva quotidianamente roba incredibile sembra proprio Sanremo o ancora diciamo o ancora diciamo olimpiadi che la gente venivano e non c'erano gli aerei venivano per sentire le parole di saggezza che uscivano dalla bocca di Shlomo Amalek allora ridarà il regno alla famiglia di Davide la memshallah come era all'inizio e dei primi cose lui costruirà il santuario il santuario viene chiamato Beit HaMikdash la casa santa cosa vuol dire la parola santa la parola santa vuol dire diverso per esempio noi sappiamo che custodiamo il sefer Torah allora quando uno viene in Tempio e vede l'onore che viene dato al sefer Torah quando si tira fuori il sefer Torah della Ron HaKodesh allora che cosa proclama Lohazan? Shema Yisrael Amunay Elokein Amunay Echad che cosa c'entra? Scusi Rav scusate un'interruzione per spiegare perché ha detto Amunay adesso? perché normalmente per rispetto ad Hashem se non è proprio il tempo della Tfilah allora non si pronuncia il vero nome di Hashem ma si dice Amunay per non dire ok allora cosa c'entra quando tiriamo fuori il sefer Torah cosa c'entra di noi dichiaramo Shema Yisrael la 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 Shema Yisrael perché una persona anche a chi non è abituato vedendo che tutta la gente si alzano in piedi c'è questo rotolo con un mantello magnifico Eh, senz'altro questo è il Dio degli ebrei. Ecco, perciò si dichiara. No, 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 no. Questo non è il Dio degli ebrei perché ci sono altre religioni, cosiddette religioni, che loro hanno dei oggetti che loro danno come una divinità. Ma invece quando noi tiriamo fuori il Sefer Torah, noi dichiariamo a sceme il nostro Dio, solo a sceme è unico. Questo è la sua legge. È, diciamo, la sua parola per istruire il mondo come dobbiamo comportarsi. E allora, l'una delle prime cose del re Mosheach, che lui costruirà il Beit Ham-Ignash, una casa santa. E abbiamo appena spiegato che la parola santa vuol dire diverso. Tanta gente non sa parlare di santità, però non so ne vuol dire cosa dire santo. E allora santo vuol dire diverso. Viene custodito nel arron, nell'armadio santo. Cosa vuol dire armadio santo? Non viene usato per camicie, per scarpe o per altri oggetti, solo per il Sefer Torah. Ecco, perciò è un armadio diverso. Scusa, una domanda a Elena, mi incarica di domandarle. Ma allora la costruzione da parte di Mosheach, del terzo Beit Ham-Ignash o altri di quello che scenderà direttamente dal cielo? Questo quando accadrà sapremo con sicurezza. Anche se scenderà dal cielo è in merito di Mosheach. E quindi questo è un particolare che a noi non ci interessa. Questi sono affari di Hashem. Però cosa vuol dire la casa diverso? Anche la regina Elisabetta in Buckingham Palace è una casa diversa. Ci sono non so quanti, 70, 80 camere da letto. Non è una casa normale. Però non viene chiamata una casa santa diversa. Perché come mai viene chiamata una casa bayet? Bayet vuol dire dentro. Noi sappiamo che quando c'era l'arca di Noè, allora comanda Hashem a Noè di spalmare con pece dentro e fuori perché l'acqua sarà turbolente. Che cosa significa una casa? Una casa significa che hai un dentro, hai un posto di sicurezza. Questo vuol dire una casa. Anche se i muri fuori non sono di gran bellezza, tu hai una casa perché la casa è fatta per sicurezza. Ecco perciò una casa viene chiamata bayet. Il santuario è chiamato la casa diversa perché anche la regina Elisabetta ha bisogno di una casa per la sua sicurezza. Anche se è diversa da tutti gli altri, però la casa a casa è uguale come tutti gli altri perché ha bisogno di questa casa per la sua sicurezza. Però l'inquilino del santuario, lui non ha bisogno di avere una casa per la sua sicurezza. Lui non teme nessuno, lui è padrono del mondo. Lui ha costadetto, ha dato ordine di costruire una casa per la gente che avrà un punto di riferimento. Allora questa è una casa diversa. La casa non è fatta per l'inquilino ma è fatta per i visitatori che loro arriveranno al santuario e vedranno quanto è un posto diverso. C'erano lì centinaia e centinaia di animali che venivano sciartati di sacrifici, diciamo che è una parola, diciamo sbagliata, la traduzione. Corbanot, avvicinamento, non è sacrificio, è un avvicinamento. Fa poco parliamo di cosa vuol dire Corbanot. E allora mia moglie durante l'estate, quando lei prepara prima di sabato un polo, basta di lasciare 15-20 minuti il polo, sono già 5-6 zanzare che loro hanno sentito l'aroma, diciamo dei poli, sono già lì. Lì nel santuario che erano 355 giorni alla, perché noi chiamiamo l'anno Shana. Come mai viene scelta la parola Shana per specificare, per dire un anno, perché il valore numerico del Shin non è Shana sono 355 giorni. Ecco, perciò noi ebrei che noi abbiamo il calendario basato sulla luna, ci sono nell'anno 355 giorni. Ecco, perciò viene chiamato Shana. Allora durante l'estate anche portavano questi Corbanot, i cosiddetti sacrifici. E c'erano grasso e centinaia, mai visto una zanzare in tutto, diciamo, l'aria del Betamigdash. È un miracolo, perché c'era la presenza di Hashem. I zanzari sapevano, questo non è parte, se andiamo a cucinare qualche rabbino a preparare, diciamo, qualche cosa da mangiare. Però nel santuario c'erano centinaia di persone lì e quando i Kohanim loro durante il servizio recitavano il Birkat Kohanim, la benedizione fatta per i Kohanim, recitavano il vero nome del tetragramma. Tutta la gente sentendo il tetragramma si inchiravano. Entravano in quella aula nell'Ezrat Israele o nell'Ezrat Nashim, 500-600 persone, erano come sardini. Potevano anche alzare i piedi, non cadevano perché erano così stretti. Quando i Kohanim recitavano il tetragramma come è davvero, tutti dovevano proprio prostrarsi. Allora io sono un po' grassoccio, però più di 70-80 centimetri non ci arrivo di larghezza. Anche non sono grande altezza, però arrivo a 1,48-1,49. Però è sempre di più da 80 centimetri. Allora, se quando stiamo in piedi non c'è spazio, posso anche alzare i piedi, perché siamo come sardini, quando nello stesso momento tutti prostraverano, come si arrivano? Non è che erano fatti di elastico i muri, sono rimasti e c'erano posti. E tutta la gente che hanno testimoniato questo. C'era la manifestazione della presenza di Hashem. Ecco, questo è il Beit HaBikdash, la casa diversa. Posso fare una domanda? Sì, come no? Ci spiega come mai la Rona Kodesh, è come se non avesse una misura, stava in uno spazio che non era uno spazio. Certo, perché qui si parla della presenza di Hashem in questo mondo più sacro di tutto. Perché lì c'erano le tavole della legge e questo è scritto dalle mani di Hashem. E allora di mettere un oggetto scritto con la mano di Hashem che ha un determinato limitato spazio, questo non ha niente a che fare con la presenza di Hashem. E allora perciò proprio nella Rona Kodesh, dove c'è in una maniera rivelata la presenza di Hashem, non poteva avere la limitazione di spazio. Il Mishkan aveva una larghezza di dieci amot. E la Rona Kodesh è stata messa nel Sartum Sartorium nella lunghezza verso fuori. Allora la larghezza era un amà e mezzo. Allora se c'erano dei lavoratori che facevano le misure, c'era un lavoratore sopra la Rona Kodesh, un amà e mezzo, circa 80 centimetri. da un muro del Mishkan all'altro dieci. E si faceva dal muro fino alla Rona Kodesh cinque e dall'altro muro alla Rona Kodesh cinque. Ma come? E c'era una. E questo è siccome c'è la presenza di Hashem, allora la presenza di Hashem non può avere una limitazione. Ok. O Mekabetz dopo che lui avrà il punto di riferimento per tutti gli ebrei perché ci sarà il santuario, allora o Mekabetz radunerà Nittrei Israele. Tutti gli ebrei che sono sparsi in tutto il mondo. Tutti gli ebrei vorranno tornare in terra santa, in Erez Israele e potranno essere veramente felici, contenti di fare tutte le mitzvot come erano all'origine. Questo ce lo dice Rambam, Maimonide. Basato sui profeti e sul Torah. Oggi sappiamo che non ci sono tutti gli ebrei che vogliono andare in terra. Perché non è ancora arrivato Moshiach. Aspettiamo Moshiach e perciò studiamo di venire la voglia a tutta la gente di pensare a Moshiach, non soltanto ai soldi o al coronavirus, di pensare proprio anche di proprio di servire a Moshiach. Perché torneranno con la misfatim tutte le leggi di Moshiach, nella sua epoca, nel tempo di Moshiach, che avevano i codi come erano prima di tutte le restrizioni di Aspore, eccetera, eccetera. e finiamo qui perché abbiamo raggiunto il tempo della nostra lezione e 18 minuti abbiamo fissato perché la gente di social hanno dei problemi di tempo. Possiamo spiegare che molti si sono lamentati e vorrebbero tornare a una lezione più lunga, però è divulgazione, siccome la maggior parte hanno poco tempo. E io ho detto, guardi, seeing is believing. Io parlo a social, ogni lezione c'è un'informazione che qualcuno che vorrà dare dal decimo al... Dicevo, nessuno dà niente, allora quindi non lo so, non mi posso dire. Allora, i miei Shashem giovedì, con l'aiuto di Hashem, ci rivediamo e torneremo. Però voi potete telefonarmi o anche scrivere, noi vogliamo, e ci sono 700 persone che vogliamo tornare a un'ora di lezione, allora no problem. Ok, che Hashem vi benedica e tutti questi che hanno bisogno di avere l'aiuto di Hashem che saranno veramente aiutati da Hashem.